Secondo me questo è uno dei capolavori più straordinari che possediamo a Milano ed è anche un oggetto carico di fascino, di significato, è un oggetto che è stato maneggiato, tenuto in mano da Sant'Ambrogio anzi probabilmente commissionato da Sant'Ambrogio, è una scatola, una scatola cubica che in origine conteneva delle reliquie degli apostoli e per questo era stata destinata alla Basilica degli Apostoli, attualmente San Nazaro in corso di Porta Romana capolavoro straordinario di oreficeria imperiale siamo alla fine del IV secolo quando Milano era capitale dell'impero romano e le botteghe milanesi producevano oggetti di questo genere